buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata della rubrica face to face la nostra ospite di oggi è Irene Stabile executive di Affida buongiorno Irene benvenuta ciao buongiorno Jennifer eh Irene oggi è con noi perché nell'ultima convention di Affida ha ricevuto il premio Digital Pillar per aver convertito in pratiche il maggior numero di lead web e intanto congratulazioni per il premio che hai ottenuto grazie Irene Stabile lavora prevalentemente nella zona di Cervignano del Friuli che è in provincia di Udine e anche nelle province di Limitrofe e eh coordina un team di cinque eh persone. Allora eh diciamo che come prima cosa io ti chiederei come sei riuscita a mh performare così bene e raggiungere il primo posto nella classifica di Affida visto che si tratta di un settore che è eh relativamente nuovo per l'intermediazione del credito ehm perché insomma il web è arrivato da poco tradizionalmente il consulente del credito eh va a cercare le pratiche lì dove ci sono quindi nelle agenzie immobiliari è lì che si trovano appunto i clienti a cui vendere mutui oppure magari poi che hanno anche bisogno di un prestito o di eh qualcosa di più. guarda per me è stata io l'ho vista come un'occasione grandissima eh l'ho visto come oro colato che arrivava dall'azienda e mi è piaciuto subito l'idea e l'ho fatto con grande impegno perché proprio ci credo a questo progetto e mh è una situazione completamente nuova effettivamente sì per noi e però ci dobbiamo modificare dobbiamo imparare a cambiare perché ormai la gente approccia il web per qualsiasi cosa quindi anche per questo si informano, vedono, guardano e quindi è un'occasione in più per noi di avere clienti in più. Ascolta volevo chiederti ma mh in affida eh come funziona la generation eh i lead eh vi vengono forniti dall'azienda eh arrivano con continuità o a intermittenza sono gratuiti oppure sono a pagamento insomma come come funziona? Allora eh le lead arrivano anche a periodi un po' intermittenza perché ad esempio abbiamo appena passato agosto ad agosto la gente non ci pensa a queste cose quindi di segnalazioni ne arrivano sicuramente meno però abbiamo una certa continuità per il resto dell'anno vengono acquistate dall'azienda noi non paghiamo niente e parzialmente vengono anche lavorate dall'azienda quindi anche una sorta di raccolta documentale prima vengono filtrate oppure abbiamo anche quelle dirette le dirette proprio la pura segnalazione denominativo che io poi chiamo sento e a quel punto poi procedo con la pratica se cliente sempre effettivamente interessato. Allora Irene visto che siamo nel tuo ufficio io approfitterei della tua esperienza dei tuoi risultati per parlare di un argomento che è un po' spinoso che è la qualità dei lead e molto spesso i consulenti del credito si lamentano di ricevere dei contatti cosiddetti freddi cioè dei dei contatti che non sono più tanto interessati a ricevere un prestito oppure che quando vengono contattati rispondono in modo insomma un po' brusco e rischiano di di far passare anche un po' la voglia diciamo di fare questo mestiere diciamo che quello che ho sentito da molti consulenti è proprio questo quindi volevo chiederti come ti sei trovata in questo senso e se hai difficoltato se hai incontrato scusami qualche difficoltà o come poi le hai superate se le hai incontrate? Ma sai noi lavoriamo su grandi numeri quindi nei grandi numeri ci sta anche la persona che magari ha digitato un qualcosa di sbagliato o veramente per pura curiosità e quindi poi quando si sente arrivare la telefonata si infastidisce quindi è normale il discorso dei persone ormai fredde non interessate è un problema che vedo che i miei colleghi riscontrano ma perché è importantissima la tempistica proprio come ti dicevo prima le persone si informano guardano quindi il cliente che io ricevo e non si sarà approcciato solo ad affida non avrà cercato solo con me il prestito piuttosto che la cessione il mutuo ma sono persone che si affacciano a più aziende quindi la tempistica è importantissima e non possiamo lasciare un nominativo lì fermo per giorni neanche per ore secondo me perché in quelle ore intanto ci sarà qualcun altro magari che lo lavora al posto nostro eh perché sì non sono sempre diretti dall'azienda ma arrivano appunto dal web e il web è un mondo infinito di di offerte in questo momento quindi è importantissima la tempistica e sì ti dico nei grandi numeri purtroppo qualcuno anche si arrabbia qualcuno non risponde più al telefono qualcuno ti dice no ma io non ho dato numero di telefono mail perché non sanno neanche bene come gestire queste cose a volte succede magari nelle persone un po' più anziane e che curiosano e poi vanno magari in imbarazzo di fronte alla telefonata ma dobbiamo lavorare sui grandi numeri sui grandi numeri poi i numeri buoni escono sicuramente benissimo quindi diciamo che il consiglio con chi si approccia a questa realtà è quello di eh intervenire tempestivamente e eh e portare pazienza diciamo esatto esatto e altra cosa riuscire a incontrarli di persona questo è fondamentale eh non prevedivi telefonici o via mail ma riuscire ad incontrarli di persona eh così anche poi si fidano vedono che sei presente sul territorio che non sei un fantasma telefonico come dico io ma che ci siamo quindi si possono fidare c'è un'azienda alle spalle benissimo allora vale il buon vecchio incontro faccia a faccia insomma alla fine sempre questo sempre benissimo Irene allora io ti ringrazio per essere stata con noi e mh do appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata della rubrica face to face grazie ancora grazie a te Jennifer buona giornata a te grazie a te grazie a te grazie a te